il principio di sovrapposizione della meccanica quantistica pone un altro problema importante che è legato al fatto che la teoria non ha un limite di validità chiaro e in linea di principio io posso applicarla a qualunque sistema fisico microscopico o macroscopico che sia e allora Schrodinger ipotizzò la seguente situazione prendiamo un gatto chiuso in una scatola con un meccanismo legato una fiala di veleno e azionato da un atomo radioattivo l'atomo radioattivo prima poi decadrà ma non sappiamo quando più precisamente la meccanica quantistica dice che si verrà a generare la sovrapposizione dei due stati atomo decaduto e atomo non decaduto l'atomo poi interagirà con il meccanismo se l'atomo decade il meccanismo viene azionato se l'atomo non decade il meccanismo rimane inerte e la sovrapposizione si propaga dall'atomo al meccanismo atomo decaduto meccanismo azionato più atomo non decaduto meccanismo ancora non azionato se il meccanismo viene azionato rompe una boccetta con del veleno mentre se il meccanismo non è azionato nulla accade ecco che la sovrapposizione si propaga atomo decade meccanismo viene azionato la boccetta di veleno si rompe oppure l'atomo ancora non è decaduto il meccanismo non è azionato e la boccetta col veleno è ancora intatta e infine arriva il gatto se la boccetta di veleno viene aperta il veleno si propaga nella scatola e uccide il gatto altrimenti nulla succede e di nuovo la sovrapposizione quantistica continua a propagarsi atomo che decade meccanismo azionato boccetta rotta veleno che uccide il gatto oppure nulla di tutto questo in ultima analisi avremo la sovrapposizione del gatto vivo e gatto morto chiaramente scherrodinger non voleva essere cruento e utilizzò questo espediente questa immagine mentale solamente per portare in luce fatti paradossali che emergono dalla meccanica quantistica o sembrano emergere dalla teoria così come è formulata che cosa significa che un gatto può essere vivo morto o qui più là la teoria predice l'esistenza di questi stati ma noi non li vediamo in natura allora come stanno le cose grazie